Ben ritrovati a tutti, sono Federico e oggi andiamo a fare la tier list di Assassin's Classroom, con il mio pessimo inglese, però andiamo a vedere un po' qualche personaggino. E prima di iniziare col video ti chiedo un piccolo follow per aiutarmi in questi miei video, in questi miei progetti e un like se ancora non l'hai fatto. Comunque, la tier list, per chi non sapesse cos'è, consiste nel mettere tutti i personaggini appunto di questa determinata serie in questi campi qua. Ad esempio c'è il meno male che c'è lui, cioè i personaggi migliori, quelli che mi sono piaciuti di più banalmente, bello dove ci sono i personaggi che a me piacciono, normali i personaggi che stanno un po' in mezzo, che non si sono esposti più di tanto, non mi piace, indovinate, i personaggi che non mi piacciono e il chi sei, aspettate che ho anche scordato il punto di domanda, nei personaggi che non mi ricordo chi sono, perché purtroppo spesso mi scordo molti personaggi e devo anche dire che la serie l'ho finita di vedere quasi un mese fa, quindi non mi ricordo pienamente tutto. Comunque, io naturalmente i nomi purtroppo me li sono già scorreti tutti, me ne ricordavo qualcuno ma al momento non me li ricordo a pieno. Comunque, lei è una degli insegnanti, io partirei subito mettendola in bello. Comunque è un insegnante che per chi non lo sapesse è un killer professionista che viene assunto appunto per cercare di uccidere il nostro Koro Sensei, questo me lo ricordo ancora come nome, lui me lo ricordo. E diciamo che ha una bella crescita del personaggio, forse il finale non mi è piaciuto molto, il finale, però ha una bella crescita, ha proprio un'evoluzione nelle emozioni, nel carattere che mi porta a dire bello. Il figlio del preside, il figlio del preside, a me piace anche lui, te lo metto in bello anche lui, il problema suo è che si mette contro i protagonisti e se ti metti contro i protagonisti perdi, banalmente perdi, questo è l'ABC di mettersi contro i protagonisti, non in questa serie, in generale in tutte, però di base ci prova, prova a battere la classe terza e cioè la classe dei nostri protagonisti, purtroppo non ce la fa, io ti favo per lui, ve lo dico. Ok, partiamo con il responsabile, che è un membro dell'esercito, credo, dei servizi segreti giapponesi, non vorrei dire cavolate, lui te lo mette in normale, non lo so, alcuni momenti mi piace, altri momenti non mi piace, quindi per il momento te lo metto qui, una via di mezzo, lui, il primo personaggio che finisce nella via di mezzo, tra l'altro sono stato in piscina, ho tutti i capelli che mi stanno davanti alla faccia, sto esplodendo veramente e io ho una brutta notizia per voi, confermo che è arrivato ufficialmente il primo personaggio che io non so chi sia, perché banalmente i protagonisti sono questa classe, la terza E, e non tutti vengono approfonditi così tanto, magari hanno una caratteristica che di, magari hanno solo una caratteristica che li descrive, cioè ad esempio lui se non sbaglio è il ragazzo povero, il ragazzo pervertito, la ragazza agile, la ragazza della chimica, loro sono lo stesso, o mi sto confondendo io? Vabbè, comunque diciamo che hanno una caratteristica e non tutti me le ricordo. Comunque, appunto, lui è il ragazzo povero e non lo dico io per cattiveria, è proprio la sua caratterizzazione del personaggio, è essere povero, non sto scherzando, non sto scherzando, veramente. Lui è il ragazzo pervertito e ufficialmente il primo che non mi piace, sarà bruttissimo da dire ma non mi piace, ha banalmente il classico personaggio alla giapponese, cioè in tutti i manga giapponesi, soprattutto quelli vecchi, c'era ad esempio, non so se viene presente in Dragobo il maestro Muten, il genio della tartaruga, che quando vede una donna gli esce il sangue dal naso, ecco, non mi sono mai piaciuti questi personaggi. Anche loro due direttamente in normali, come detto è la ragazza agile e la ragazza della chimica, purtroppo lasciano il tempo che trovano i loro personaggi. Certo, c'è da dire che sono, è di sicuro molto meglio lui, molto più caratterizzato, però li metto tutti allo stesso livello al momento. Karma, Karma, uno dei pochi nomi che mi ricordo, Karma, io te lo metto in, comunque è bello. Comunque io non ho mai capito, non so se notate, ma sono letteralmente uguali, sono identici. Io non lo so, mi aspettavo un po' un colpo di scena finale scoprendo che Karma in realtà era suo fratello, perché ero letteralmente uguali, eh, quasi gemelli sembravano, invece no, solamente aveva finito lì dei personaggi e quindi sono venuti fuori uguali, però di base a lui mi piace come personaggio. Lui secondo me è lo stesso, io te lo metto qua, sono gli stessi, vedete che ha la fotocamera da Monello, diciamola così. Oh, lei non mi ricordo chi sia, mi spiace. Non mi ricordo chi sia. Poi andiamo avanti, subito, veloci. E lei, che non mi ricordo il nome, ma è un personaggio abbastanza centrale per la storia, purtroppo non mi piace. Lo so, non mi è piaciuto come l'ha gestito, cioè che a un certo punto è venuto fuori che aveva un piano segreto, super segretissimo alla fine. Boh, non lo so. O non ci avevano ancora pensato, perché di solito quando si ha un piano così segreto magari qualche indizio lo inizia a dare un po', qualche episodio prima, magari se devi arrivare a un colpo di scena bello pesante, come in realtà è stato il suo, anche magari tre, quattro episodi prima fai vedere qualcosa che ti fa vendere un po' il dubbio, ti fa pensare ma cosa sta facendo? E invece qui da un episodio all'altro, cioè il suo personaggio dà così, diventa così. È un ribaltamento di tutto quello che si conosceva di questo personaggio. Non farò troppi spoiler, naturalmente, e quindi te la metto in non mi piace, purtroppo secondo me è stato gestito un pochino male. Lei, di base la sua caratterizzazione è che è la ragazza bella. E io te la metto in normale, purtroppo ragazzi, io ho detto, sono caratterizzate al minimo molti personaggi, molti sono bellini, dopo ne vediamo alcuni, ma come detto a questi... Lui, allora, io quasi quasi te lo metto in bello, perché se non sbaglio il suo nome è Justice, lui non lo so, la sua caratterizzazione in realtà è che il suo nome è Justice, cioè non ha una caratterizzazione sul carattere, che può essere un po' timido, ti posso dire questo, però la sua caratterizzazione è che si chiama Justin, e quindi si vergogna a farsi chiamare così appunto perché è un nome un po' strano, onesta come cosa, Justice, giustizia praticamente. Però va bene, io te lo metto in bello, perché sta cosa almeno è pochino più particolare dal personaggio bello, personaggio agile, personaggio della chimica, personaggio intelligente, eccetera eccetera, lo so, sto ripetendo molte cose. Purtroppo non mi ricordo chi è questo personaggio, non me lo ricordo purtroppo. Non mi ricordo chi è, si sto provando, io forse la confondo sempre con quest'altro personaggio, sempre con i capelli un po' rossi così. Mi sa di sì. Comunque, passiamo al protagonista che non mi è dispiaciuto più di tanto, io infatti te lo voglio mettere in bello, di base il protagonista è, secondo me è un pochino tanto tirato in alcune parti, però di base questo protagonista ha il dono dell'assassino, cioè praticamente lui è portato per assassinare le persone. E in realtà al finale che va a fare, cioè cosa andrà a fare dopo le medie, dopo le superiore, eccetera eccetera, perché fanno vedere nell'ultimo episodio qualche spezzone, mi è piaciuto. Se non fosse per quello, se non fosse per come è andato a evolversi dopo nella vita, in generale il personaggio, te l'avrei messo un pochino più sotto, al normale. Così io te lo metto in bello, perché banalmente lui può battere di tutti, tutti, qualsiasi personaggio ce la battere lo batterà lui, potete stare certi. Lui non mi ricordo chi sia, lui te lo mette in normale, credo che sia il responsabile della classe. E lui, forse è quello un po' secchione nella classe, quello intelligentone, la sua caratterizzazione si fine qua, la sua caratterizzazione finisce qua purtroppo, quindi te lo metto in chi sei, anzi te lo metterei in normale, perché so chi è, solo per quello. Lui è quello bravo con le armi, quindi lo metto qua. Lui mi piace, lui te lo metto in meno male che c'è lui. Forse è uno tra i personaggi con la caratterizzazione migliore di tutta la serie, cioè che lui parte un po' da bulletto della classe e finisce comunque con una bella crescita del personaggio, quindi io te lo metto in meno male che c'è lui, è uno dei miei personaggi preferiti, indubbiamente. Lei la metto in normale, purtroppo è così, e io ti metterei in normale quasi tutti, perché della classe veramente oltre ai protagonisti gli altri sono molto tirati. Lei non mi ricordo neanche chi sia, lei mi ricorda, io te lo metto in bello. Forse la sua caratterizzazione se non sbaglio è che è un po' dark, che secondo me è stata gestita un pochino meglio. È nello stesso gruppetto dei bulletti insieme a lui praticamente, però secondo me è già gestita un pochino meglio. Lui te lo metto in normale perché so chi è, però non mi ha fatto impazzire, devo essere sincero. Purtroppo come ho detto non mi piacciono tanto. Molti personaggi. Lui non mi ricordo chi sia e nemmeno lui. Ok, lui mi piace, bello, lui te lo metto in bello. La sua caratterizzazione però è che è appassionato di moto. Cioè come ho detto hanno una caratterizzazione più che altro perché sono tanti personaggi, sono tanti. Qui arriviamo a una chicca della serie, secondo me, banalmente. E so che può sembrare un personaggio normale ma è tipo un'intelligenza artificiale questo personaggio qua. È un'intelligenza artificiale e io te lo metto in meno male che c'è lui in questo caso, meno male che c'è lei. E di base a questa intelligenza artificiale appunto con lo scopo, l'unico scopo di battere il nostro professore. C'è un po' di evoluzione del personaggio anche se il finale suo non mi è piaciuto però io credo che durante la serie è sempre stato bello. Comunque come personaggio si è sempre rivelato molto utile anche per l'assassino del protagonista. Lui non mi piace. Posso dirlo, spero che molto, so che non piacerà questa cosa. Comunque anche lui la sua caratterizzazione è che bravo con i modellini tipo. E di base lui aveva i tentacoli come Koro-sensei che uscivano dai cappelli praticamente. E per forse tutta la prima stagione si è visto lui arrivare, si combatteva con Koro-sensei, perdeva e se ne andava. Tornava tre episodi dopo, combatteva e se ne andava. Dopo un po' l'ha fatta restare ufficialmente però all'inizio un po' così. Ok, passiamo alle quattro eccellenze credo che siamo, quattro, cinque eccellenze. Comunque compagni di classe del figlio del preside. Lui mi piace, se non sbaglio, è quello della matematica. E mi piace, ma perché è particolare? È particolare anche come faccia, come espressioni se non sbaglio? Mentre gli altri tre c'è poco da dire secondo me. Io te li metto in normali tutti e tre. Passiamo ufficialmente all'antagonista del nostro protagonista. E l'antagonista si merita il meno male che c'è lui. Meno male che c'è lui. Di base al preside della scuola. E si rivela essere molto intelligente, molto scaltro, molto abile in tutto quello che fa. Proprio il suo ruolo è essere una spina nel fianco del protagonista appunto di Koroku Sensei. E ce la fa pieno, ce la fa pieno. E io ti metto anche il nostro professore. In meno male che c'è lui. Ora invece se ci fossero professori come lui in giro per le scuole sarebbe un posto più bello studiare. Sarebbe molto più affascinante. Passiamo a uno dei due villain. Tra l'altro ci sono tutti e tre in scaletta. Lui te lo mette in bello. Banalmente è l'allievo suo che lo tradisce. Quindi per avere un po' anche solo la sua attenzione lo tradisce. E te lo mette in bello. Un po' il finale con la battaglia dove sono giganteschi non mi ha fatto impazzire. Però per tutto quello che è stato costruito prima devo dire che non è male. Non è male. Lui purtroppo non mi piace per niente. Lui zero, veramente zero. È uno dei due, è uno dei tre antagonisti. Quindi lui è il secondo che vediamo. E banalmente sfrutta lui, lei, lui per i suoi scopi. E comunque perde sempre. Forse sfrutta anche lui se non sbaglio. Se ce le prova tutte ma non ce la fa mai. Farò un piano che possa un minimo funzionare. Veramente assurda sta cosa. Quindi te lo metto in non mi piace come personaggio. Passiamo al terzo villain. Tra l'altro si vede poco però è lui. Lo metto in bello anche lui. Te lo metto in bello. Perché è un po' particolare come personaggio. Però non bisogna prenderlo nell'ottica del... È un personaggio cattivo perché è un personaggio cattivo. Proprio cattivo. E quindi non mi piace. Nelle storie serve anche un po' il personaggio giocattivo. Lui ce la fa benissimo a farlo. Ce la fa benissimo in tutte e due le occasioni in cui lo si vede. Veramente eccezionale secondo me per il suo ruolo. E quindi te lo metto in bello. Per finire lei che se non sbaglio è la... Lei la si vede molto poco. Era la vecchia insegnante. E io te la metto in normale. Non lo so. Non mi ha fatto impazzire come personaggio. Se hai visto molto poco questo c'è da dire. Però non mi ha fatto impazzire. Devo essere sincero. Quindi te lo metto in normale. Comunque. Ok vi ho sistemato un attimo la tier list. Mi sono accorto adesso che qualche personaggio non si vedeva. Comunque vi ho aggiustato il tutto. Fatemi sapere anche quali sono i vostri personaggi preferiti. Come ho detto i miei quattro preferiti. Li vedete di qua. Di qua li vedete. Scatate sto guardando anche la videocamera. Non capisco niente. Mi confondo d'essere sinistra. Comunque. Questi sono i miei personaggi preferiti. Questi sono i belli. I normali. Non mi piace. Ma chi sei tu? Il video è finito. Mi raccomando ditemi i vostri personaggi preferiti. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.